Il mio show di domani a Bologna sarà il primo sciopero dei telespettatori Rai. Preoccupazione tra i dipendenti Fiat per le indiscrezioni sul piano 2010-2014 che prevede 5.000 posti in meno. Sono previsti massicci investimenti sul mercato americano dell'auto. Grande successo per il concerto-evento organizzato dal Resto del Carlino per il restauro della Basilica di Santo Stefano. 10.000 persone alla Future Show Station e 122.000 euro di incasso. Mario Balotelli è sempre al centro delle polemiche. Dopo la nuova esclusione da parte di Mourinho piace sempre più a Berlusconi che gli strizza l'occhio. Quel ragazzo ha la faccia da milanista. Giselle Bunchen, 30 anni, ha annunciato davanti ai fotografi esterrefatti che intende lasciare le passerelle. Ormai sono troppo vecchia per questo mestiere. Mi sento da pensione.